Signore buongiorno, via Fabio Filzi, siamo nei pressi di Bergamore dove una volta c'era l'ospedale vecchio. Siamo in un po' venti di fondi, saliamo verso il corso, attunzito con l'autobus. Adesso è Sperlong, adesso stiamo tornando a casa, sono quasi le 13, le 12 e 40, fa caldo, possiamo dire che fa veramente caldo, fa nuovamente caldo. Qui di fronte a noi il vecchio ospedale, adesso c'è il chiostro di San Domenico. Dove sta svolgendo la nuova edizione del Fondi Filma Festival. Qui venivamo per via Tommaso d'Aguino, dove poi subito vediamo di fronte la chiesa, la campanile, la chiesa della Santa Maria, che veniamo già allontanata. La frivica vecchia. La frivica vecchia. L'Associazione del Trappo dell'Assunta ha creato questa iniziativa molto carina e simpatica. Adesso voi non li vedete gli ombrelli, li vedo io in ondananza, vedo un lembo degli ombrelli di fronte a me. Da poco arriveremo di fronte alla campagna di Santa Maria e gireremo a sinistra per andare giù al corso o piazza, come si può dire. e nel frattempo si può fare un matrimonio, quindi ci sono anche gli invitati in chiesa. Faccio vedere qualche lembo della campanile degli ombrelli, eccole qua. Vedete quei carini, veramente carini carini carini. Ci vediamo ancora qui, eh. Il figlio Giulio, qui è il tuo riposto. E qui. Fabri. Ecco qui. Ecco qui. E' veramente carino questa iniziativa. Questo è proprio per i zumbini. Così per i canti fondali che sono lontani, c'è la possibilità di vedere questa iniziativa. è veramente carina. E' mega. Tanti begli applausi. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.